Diciamoci la verità, probabilmente io ho uno spirito estremamente kamikazzen perché ho non una ma due uscite nei prossimi giorni, nelle prossime settimane e tutto dovrei fare tranne che, tra virgolette, cercare di inimicarmi in qualsiasi pubblico. Perché? Perché la logica del buon scrittore qual è? È quella dell'amicattismo. Voglio bene a tutti, vi amo tutti non so stare senza di voi, vi ringrazio uno a uno ma io, che sono un grandissimo TDC, che vuol dire testa di cavolo e non dico cazzo perché non voglio sembrare vulgare non ce la faccio a stammezzito. E appena mi è arrivata un'altra news sempre dallo stesso grandissimo distributore, non ce l'ho fatta a tacere tempo fa abbiamo parlato della questione delle librerie femministe cioè quelle che vendono esclusivamente testi scritti da donne che in Europa, nel mondo e in Italia stanno sciorendo come i funghi dopo la prima pioggia. Ci siamo? E io ne ho fatto una questione di principio cioè io già ho sul cazzo quelle case editrici che usano il famoso schwa per un non si sa quale tipo di politicamente corretto inventato dagli asini di turno figuratevi come posso approcciarmi nei confronti di chi impone una discriminazione di genere cioè per portare avanti le tue ragioni di genere, discrimini l'altro genere cioè il cretinismo, anzi la mamma dei cretini è sempre incinta io l'ho detto, le vieterei per legge queste librerie ma andiamo avanti perché il problema si è raddoppiato e sapete perché si è raddoppiato? Perché i cretini camminano sempre in coppia mai separati. E così se da un lato abbiamo il crescente fervore nei confronti delle librerie femministe 4.0 chiamate come volete anche in Italia stanno sorgendo un numero incredibile di librerie gay ovvero sia quelle librerie nelle quali puoi trovare esclusivamente i testi scritti da il ricchione di turno ok? Ora, la storia della letteratura è piena di omosessuali stracolma di omosessuali da Oscar Wilde a Pasolini e oltre il numero è infinito uno dei miei scrittori preferiti in Italia per esempio è Aldo Busi che non ha mai fatto mistero di non essere eterosessuale ma vedete fin quando c'è il singolo autore che parla della sua sessualità e non ha niente da nascondere, non c'è niente di male nel mettere in mostra i propri gusti sessuali il problema non si pone. Io sono convinto che in una società civile una società sapiente, una società moderna non ci sia bisogno sia del tutto superfluo dire sono o non sono omosessuale anche perché oggi di fatto parlare di una presunta discriminazione omosessuale è quantomeno ridicolo anzi oggi sembra l'esatto contrario oggi sembra che se sei maschio magari bianco e disgraziatamente etero sei il male assoluto questo è il problema cioè io in questo momento che ho tutte queste caratteristiche rappresento il male da combattere per questo dico che addirittura fare le librerie solo per i gay nel 2024 è folle poteva andare bene neanche 10, 15, 20 anni fa quando un certo tipo di librerie potevano manifestare il desiderio di esprimersi di una presunta minoranza ma oggi qual è il senso? e come al solito assistiamo a una discriminazione al contrario nel senso che coloro i quali di fatto sono stati discriminati e offesi e vilipesi nel passato ma oggi non hanno alcun tipo di problema da perseguitati diventano persecutori perché se tu vai nella libreria gay il libro dell'eterosessuale di turno uomo o donna che sia non lo trovi perciò che fa? anche in questo caso come per le librerie femministe gambizza la cultura è per questo che io anche in questo caso vieterei per legge l'apertura di un certo tipo di attività commerciali che hanno a che fare con la cultura perché fino a quando mi fai la discoteca il bar gay quello che vuoi gay il negozio d'abbigliamento gay va tutto bene ok? non ci sono assolutissimamente problemi che poi non si capisce perché per tante cose hai bisogno di fare il locale dedicato ai gay e invece i sexy shop sono unisex nel senso vanno bene per tutti ma andiamo avanti fin quando fai un certo tipo di corollari solo per un piacere sessuale cioè per una tendenza sessuale va bene ma nel momento in cui una tendenza sessuale riesce a sopraffare fino anche la cultura e là non vi sta più bene già ci stanno cercando di imporre un linguaggio presuntamente inclusivo perché abbiamo scoperto negli ultimi anni che esistono anche coloro i quali vogliono manifestare il loro non sentirsi né maschio né femmine ma oltre a queste ci sono anche quelle lì che dicono io me sento un cavallo oppure io voglio andare a letto solo con le automobili su youtube lo trovate quello che fa l'amore con la sua automobile ed è anche innamorato dell'automobile e già questa follia secondo molti noi la dovremmo digerire tranquillamente già stanno provando sempre in virtù di quest'ultima follia proprio per chi non si sente di nessun genere né maschietto né femminuccia né albero ci hanno provato a imporre sto cazzo di cerchietto dello schwa che non sanno neanche cosa vuol dire già ci hanno imposto che se vediamo una bella ragazza supponiamo non possiamo neanche dirle ciao come stai piacere di conoscerti perché subito siamo dei molestatori già ci vogliono proprio imprigionare in questa gabbia di merda adesso anche la libreria frocia perché praticamente l'etero va ghettizzato complimenti alla non cultura grazie